Ciao a tutti, sono Dario De Vassecchi e oggi sono qui per parlarvi di Audi RS5 Sportback. Il carattere dinamico di questa vettura si riflette anche sul design, grazie agli elementi tipici RS, come ad esempio il single frame, anteriore in nero lucido, i cerchi da venti Audi Sport e la carreggiata allargata. Ma passiamo al cuore di questa RS5, il motore. Il motore è un V6 biturbo da 2,9 litri, che abbinato al cambio T-Tronic e alla leggendaria trazione integrale 4, le permettono una potenza di 450 CV ed una coppia di 600 Nm. Il tutto le garantisce uno 0-100 da 3,9 secondi. Su questa vettura spiccano anche i freni carboceramici con pinze rosse, che garantiscono una performance di frenata impressionante. E il pacchetto Dynamic, che grazie all'assetto RS Plus e al differenziale sportivo, regalano una dinamica di guida senza uguali. All'interno l'abitacolo coniuga lusso ed eleganza con la modernità assoluta, grazie all'infotainment Audi MMI, con Audi e Virtual Cockpit Plus e al pacchetto RS, design rosso, che aggiunge sedili sportivi, cuciture rosse, e rivestimenti in alcantara su planche, volante e cambio. Venite a scoprirla nei concessionari l'auto a Lipomo e Cantù. Ti aspettiamo! Io intanto vado a farmi un giro. Ciao!